Ciao a tutti amici di QC, siamo in questo periodo che sta abbracciando l'arrivo dell'estate rispetto a quando ci siamo visti l'ultima volta che era inverno, quindi eravamo nel periodo che abbracciava l'arrivo della primavera. In questo periodo è anche un periodo fiscale, ognuno di voi è concentrato sul proprio raccolto di documenti da portare al commercialista, al CAF, all'amico del commercialista, a chi fa da sé, comunque ognuno di noi ha la ricerca dei vari documenti per portare qualcosa a costo e pagare meno imposte. Proprio per questo volevo darvi questa pillola assicurativa riguardante il fondo pensione. Il fondo pensione con la nuova riforma che è stata fatta nel 2007 e quindi è stato esteso a tutti e a qualsiasi tipologia di contatto, vi ricordo che l'unico strumento per il reddito da persona fisica che può essere portato interamente a costo, non detraibile per poco o nulla, ma per l'assegno per il pagamento fatto. Lo Stato ha messo solo un massimo che sono i famosi 5.164,57, ma se verso 100 euro posso portare a costo 100 euro, se ne verso 1000 posso portare a costo 1000. Ogni anno sono io volontariamente che decido di mettermi da parte qualcosa. Questo strumento ha tutti questi vantaggi e consente alle persone di riprendere il proprio versato in base all'importo che mi trovo, poi nei dettagli vi verrà spiegato al vostro assicuratore o se avete bisogno sono a vostra disposizione, a età pensionabile. Quindi ogni anno decido di versare ma se verso deduco e abbasso il mio reddito imponibile lordo. Quindi verificate perché magari con pochi euro potevate abbassare il vostro scalino fiscale. Buon pomeriggio a tutti e alla prossima pillola. Ciao ciao!